Bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video scusate se non ho la mia faccia ripresa ma oggi volevo parlarvi un po' di questo piccolo ecosistema che ho creato con la Pothos che è una Pothos questa come possiamo vedere si può mettere in acqua, si trova in qualsiasi ambiente diciamo, anche nei boschi comunque, volevo farvi vedere questo piccolo acquario di là ho l'acquario normale con il filtro invece di qua ho un senza filtro cioè, non è proprio un acquario ragazzi qua andranno proprio piccoli pesci ad esempio come pulitori oppure lumache ma credo più lumache perché vanno perfette per questo infatti credo che metterò lumache ma zero pesci comunque, partiamo dall'ecosistema allora, già abbiamo una lumachina che ho trovato, l'ho messa immediatamente ragazzi, non è che sta male anzi, sta meglio perché la casa è climatizzata però comunque c'è un ecosistema infatti li ho nascosto il mangiare che io non li do a mangiare ma lo va a cercare, tipo quello non un pezzo di verdura, di lattuga comunque, partiamo dalle piante allora, io ho messo una Pothos che sta con le radici in acqua ho cercato di non sradicarla praticamente, questa sta crescendo questa è un po' smanciucchiata mentre questa è perfetta sto cercando di tenere la luce puntata verso il basso così almeno l'ecosistema giù va e comunque non è acqua fredda è acqua tiepida la Pothos sta bene non si è ammosciata ovviamente è un po' curvata perché l'ho dovuta mettere così ma sta benissimo non è curvata, è pulita l'ho pulita io ogni tanto ci vado a spruzzare un po' di acqua sopra comunque, poi giù abbiamo queste piantine qui che sono grasse che si possono mettere infatti guardate qua come già hanno cacciato le radici le hanno cacciate tantissimo soprattutto questa e questa le radici mentre nell'ecosistema dato che la lumaca va pure in acqua cioè lei va proprio in fondo fino a qui le ho messo questa piantina così lei può salire e tutto quanto non consiglio questa luce qua perché io l'ho messa perché è una luce calda non è fredda perché la fredda ce l'ho eccola qui l'avevo messa ma è proprio brutta che adesso vi faccio vedere com'è mannaccia stavo dicendo ok ora ve la faccio vedere però mi stavo dimenticando ragazzi che non la posso staccare non la posso staccare perché è un ecosistema che va a luce quindi se stacco la luce diventa buio l'acqua comunque è un bordello mo mi stavo ricordando comunque credo che ci metterò un altro un bastone o qualcosa qui per renderlo più bello qui ho un poco di lumaca che è passata e si è fermata qui adesso sta lì dentro perché quella è la sua casa la sua casetta infatti ragazzi ora sta dormendo tutta la mattinata che ha girato intorno qua però lei ha capito che qua dentro sta meglio infatti metterò ancora qualcosa perché lei va così e poi risale e va dentro questo è un piccolo sistema spero che questo si riprenda questo è un piccolo video per informarvi credo che io lo chiamo acquario senza filtro ragazzi ma mo sui tigioni commenti ma non è un acquario lo so ragazzi lo chiamo acquario senza filtro perché non ha un filtro farò un breve video perché è giusto perché devo ancora capire un po' come funziona anche se bisogna lasciarlo comunque lo voglio far vedere senza luce eccolo qua ragazzi con questo ecco l'assenza di luce completa ora ho abbassato un po' lì con questo è proprio l'assenza di luce io lo adoro è magnifico però più che lasciarlo qui lo volevo trasferire di là anche perché lì c'è più luce e anche perché di là credo che sia meglio di qua perché di là ci stanno più spine più cose adesso devo ancora capire la sistemazione però l'ho sistemato qui sta bene ragazzi perché l'ho preso stamattina l'ho costruito stamattina quindi l'ecosistema si sta ancora formando in questi giorni andrò a comprare le lumachine credo che costeranno 10 euro un bel po' spero che la mia lumachina viva ancora vive vegeta perché mi fa molto piacere che già c'è un ecosistema e già ho da un animale quindi questo è come vedete là c'è sempre da mangiare lei adesso fine qualche secondo fa raga era qui che strisciava andava avanti e indietro quindi molto carino a me piace un sacco perché non fa casino c'è tanto ecosistema molto molto bello però credo che questa piantina adesso la poterò un poco pure questa la devo potare ogni tanto quella spero che si riprende perché ho cercato di metterla più a fondo possibile ecco lì raga i rami stanno stanno giù i rami quindi è fantasticamente fantastico però questo è un breve video che ho fatto spero che vi piaccia noi ci becchiamo in un prossimo video è bella ciao grazie a tutti